La scuola fa teatro e la nuova avventura intrapresa dal liceo classico Gian Battista Vico di Chieti per la sperimentazione del teatro come metodo formativo finalizzato a dare agli studenti l'opportunità di imparare, facendo, di rafforzare la conoscenza e la coscienza di sé, di confrontarsi con ragazzi di diverse età e realtà scolastiche. L'iniziativa è parte del progetto PLATEA, progetto laboratorio teatrale, e dal progetto operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, piano operativo 2012-2013 S4, capitale umano per progetto speciale scuole e apprendimenti 2. Tra tutti i linguaggi creativi il teatro noi lo abbiamo scelto proprio perché dà la possibilità al ragazzo di combiere esperienze per gestire le proprie emozioni. Poi questo nostro progetto si articola in due fasi o meglio in due momenti. Uno è dedicato ai ragazzi del ginnasio in collaborazione con i ragazzi della terza media, quindi dell'istituto comprensivo 2 di Chieti, mentre l'altra sezione è dedicata ai ragazzi del liceo, i quali lavorano su un testo scritto dalla professoressa di inizio e portano in scena le figure retoriche. Quindi noi speriamo, perché il testo è scritto appositamente ed sarà pubblicato, speriamo che possa diventare un libro di testo per far sì che i giovani possano entrare in questo mondo difficile, ma anche affascinante, che è il mondo dell'allegoria, il mondo di tutte le figure retoriche, per comprenderne il significato. Grazie a tutti.